Di tutti i mezzi, se sono molto pratico, è il metodo che in meno tempo possibile mi ha guarito di più cose, devo dire. Se penso al primo giorno dove sono andato qua, è proprio la via che mi ha riportato nel cuore, che mi ha riportato da qui ed ora, che io ho fatto, anche se ho forse meno esperienza di altri, ma ho fatto anche io dieci anni di tutto, terapie di tutto, anche cose sciamaniche, che faccio anche un altro percorso che integra molto, ma il metamodello è questo. Quello che mi fa capire il tutto, quello che avrei voluto che mi avessero insegnato l'università, che io avrei pagato 20.000 all'anno anche per studiare questo. Anch'io con gli oriciari inizio fuori dalla finestra il portoghese, poi stranamente da pochi mesi, il primo anno io ancora con il portoghese non ci riesco. E invece adesso pian piano sta cambiando, ma non perché è cambiata la percezione, perché mi piace la lingua, perché diventa più profonda e capisco anche più profondamente il tutto. Negli ultimi giorni arrivano gli insights, ah, la persistenza del contatto. Io che anche nel primo anno di BTE volevo andare subito alla pratica terapeutica più estrema. Invece qui ho proprio sentito, e in tutto il percorso che io ho fatto qua, non mi sono mai sentito, giudicato, anche nel mio fare i miei piccoli passi, che invece in altri percorsi, anche se si luce, cosa, invece sono venuto il primo anno che ero sempre vestito in nero. Non era naturale, non ero lì, diciamo, non lo sentivo, per quello l'ho fatto. Invece adesso gradualmente si apre il tutto. La fine di una cosa più importante che ho capito, è che se mi connetto al mio cuore, alla consapevolezza, e persisto e tutto, lì c'è tutto. Mi sembra di essere arrivato finalmente a un momento clou dove posso stare e essere, proprio essere se stessi, essere autentici.